Ora... Azza! E' qua stesso! Pura io devo! Tu caca caca caca! Eh, e io vado a vedere! Dove posso fare un colazzo! Perché a questoEC, e da prima! è un azione non l'ho sentito ho sentito solo tu vai 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 oh vai vai Sì. come nome no ma ce l'hanno sicuramente con te per ingannare g harry russi e talebani, quel missile è in grado di pilotare quel che c'è uè uè ma questo è sangue? Uè non scherziamo, il mio sangue mi fa imprezzio Escozai, 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 escozai Oh, isco qua, isco qua, isco qua, isco qua! È com la pezza! È qua qua... Uè! 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 Iè! Uè! la chiave non c'è la chiave no la c***a è una roba però ora non c'è la nuca e ora lo assicuriamo pure ahahah ma quella è la macchina nostra si è vero è proprio lei è vero pure la targa risponde è vero tu tieni i pigni e l'assicurazione se è pure ci stessa essa fa tu mi hai detto che i soldi non si toccano senza i soldi ma ci si ha pagato si però noi a Don Gennaro lei la prendiamo stop 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 ah no aspettiamo io ma ci vuoi ma mi stai sfruttando questo oh oi fammi perché ci sei indipo io ho detto che il legno ti vuoi andare così ferma un attimo andiamo 2 minuti perché so il camerino è possibile io mi stai cercando si andiamo eeeh siamo continuati mi sembra mai a essere sbagliato il cibo no ma adesso che cazzo ci rite vai amico ahahah che amico che amico che amico e voi trovate facendo fateci una respirazione non lo metto no ma lì che è stop ahahah ahahah ehi dalla vicino ma non ora ha detto non lo sai com'è quello se la donna mangiando e si scende con la fama non l'hai mai mangiato ma non lo sai pure quello non l'hai mai ahahah ahahah ok guardate ahci ma voi ahahah ahahah ahahah